Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una delle razze più antiche del mondo. Oggi vi presentiamo lo Xoloitzquinkle. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Lo Xoloitzquinkle, anche detto cane nudo messicano, è una razza proveniente proprio dal Messico. Si tratta di una delle razze più antiche di tutto il mondo canino. Nei secoli passati era venerato dagli azzecchi, che pensavano avesse degli speciali poteri curativi. Infatti, Xoloitzquinkle significa cane inviato da Dio. In Italia, ma anche nel resto dell'Europa, risulta essere una razza molto poco diffusa, infatti pare esista solo un unico allevamento in provincia di Alessandria. Per quanto riguarda l'aspetto è un cane primitivo, agile e robusto. Esistono tre varianti di questa razza che si differenziano per le dimensioni. La varietà standard e intermedia, utilizzate per lo più con la funzione di cane da guardia, e la varietà miniatura, cioè quella da cane da compagnia. La varietà standard va dai 46 ai 60 centimetri di altezza e raggiunge un massimo di 25 chili di peso. La varietà media da 36 e 45 centimetri e 15 chili, e la varietà miniatura non supera i 35 centimetri e i 6-8 chili. La caratteristica principale di questa razza è la mancanza quasi totale di pelo. Accarezzandolo, infatti, sentiremo al tatto la sua pelle liscia e morbida. Occasionalmente potrebbe apparire dei ciuffi sparsi. Per proteggere la sua pelle dal sole, in estate è consigliato utilizzare una crema solare, mentre nei mesi invernali necessita di indossare un cappotto per cani. Per le colorazioni del mantello partiamo dal nero al grigio nero, grigio ardesi e fino al rossastro color fegato, color bronzo e biondo. È possibile che abbia delle macchie sparse per il mantello. Il cane nudo messicano si adatta alla vita di appartamento, a patto che la sua famiglia sia tranquilla e che l'ambiente non sia né troppo freddo né troppo caldo. È un cane attivo che ha bisogno di uscire più volte al giorno per una lunga passeggiata o una bella corsetta, motivo per cui è consigliato possedere un giardino. Il suo carattere è molto particolare, ha un atteggiamento riservato e dall'indole nobile, sempre attivo senza essere però mai irrecchietto. Stringerà un legame speciale con il padrone e gli dimostrerà tutto il suo affetto, sviluppando però un'iperprotettività verso di lui. È un ottimo cane da guardia, vigile ed intelligente, per cui tenderà spesso a restare in allerta e talvolta abbaiare. È sconsigliato come primo cane, è infatti adatto a proprietari già esperti e con una mano ferma. Con i bambini va d'accordo e si dimostra molto paziente, è comunque importante introdurlo a loro fin da cucciolo, mentre con gli estranei si mostra subito in allerta e molto diffidente. Invece con gli altri cani non ha troppi problemi, si trova molto a suo agio con quelli della sua stessa razza, ogni tanto però potrebbe nascere delle piccole dispute su chi è il soggetto dominante. Questa razza ha un'aspettativa di vita media dai 12 fino ai 15 anni circa, i principali problemi riguardano proprio la loro pelle, essendo particolarmente predisposti alle scottature solari data la mancanza di protezione data dal mantello. Infine, a causa della mancanza di ciglia, sono soggetti a lacrimazioni e infezioni agli occhi. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità sul cane nudo messicano. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Bondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!